24 sacchi in meno di tre ore circa, con oltre 7-8 gomme di auto, una batteria, anche uno sportello di un'auto, per cui è una cosa veramente assurda. Siamo nella riserva naturale di Ponte Buriano e Penna, uno splendido angolo di Toscana tra Arezzo e il Valdarno. È la giornata in cui le associazioni di volontariato si ritrovano per Pulendo Cammina, un'iniziativa che, oltre a consentire ai partecipanti di ammirare questo bellissimo paesaggio, ha l'obiettivo di ripulire gli argini del fiume Arno dai rifiuti. Abbiamo l'accolto, le rifiuti, le fiume, sì. Lega Ambiente, Proloquo di Pratantico, WWF, La Racchetta, Crick di Ponte Buriano, Circolo di Monte Soprarondine, Rondine, Cittadella della Pace e, liberamente, le associazioni che hanno partecipato. Purtroppo molte siringhe, materiali provenienti inerti dell'edilizia, mattonelle, scarti d'eternit, qualsiasi tipo di sostanza che ha un costo di smaltimento e, purtroppo, l'inciviltà della gente va a finire che viene riversata in queste zone. Pensate che siamo intorno ai 50-60 sacchi nelle tre zone che abbiamo pulito, insomma, è stata sicuramente ripulita e valorizzata per quel che è possibile da parte del volontariato. Quattro i gruppi di lavoro che hanno lavorato lungo i principali percorsi della riserva per restituire a questo incontaminato e stupendo ambiente naturale lungo l'Arno la sua dignità e il suo splendore. Cosa si prova per correre questi sentieri? Si sta naturalmente molto bene. Si trova l'occasione per riflettere un pochino più su se stessi, sul proprio intimo, anziché essere tutti presi da quello che è fuori di noi. Trovo, insomma, in questa partecipazione un motivo di conforto.